Per il quarto anno consecutivo si organizza qui in Sardegna, Cagliari, il Salone dell'Innovazione, Sinova 2016. In questo evento la Regione sta credendo tantissimo, nel senso che comunque sull'innovazione c'è tanto da fare, ma tanto si sta facendo. Beh, soprattutto tanto sta nascendo, perché qua ci sono moltissime imprese fatte da tantissimi giovani di talento, ci si lamenta sempre, ha sempre paura che i giovani vanno via, il modo migliore per tenere i giovani in Sardegna è usare il loro talento e dargli l'occasione di usare il loro talento e questo è un esempio fantastico. Questo come qualche giorno fa c'erano centinaia di insegnanti che hanno lavorato con strumentazione digitale per migliorare la didattica. questa Sardegna moderna che dà del tu al digitale per fare impresa, per fare scuole migliori è la cosa migliore che noi possiamo fare per offrire servizi di qualità assai migliore di quella che offriamo adesso e soprattutto per dare una prospettiva ai giovani per dire investite in capitale umano perché come vedete si può fare e si può fare in Sardegna. Mi permetto anche di dire che rispetto agli anni scorsi siamo in un luogo meraviglioso che abbiamo aperto che è la manifattura tabacchi che è stata chiusa per un sacco di anni ristrutturata ma chiusa. Adesso la stiamo usando per la sua vocazione fondamentale in una fabbrica della creatività e oggi qui intorno c'è tantissima promettentissima creatività. In questo senso non può mancare una domanda su grandi colossi che hanno deciso di investire in Sardegna come Huawei, come Microsoft Accenture. La ragione ovviamente in tutto questo è stata abbastanza vicina anche. Non solo ma speriamo di portarne ancora altri perché noi vogliamo una come dire una situazione che cresca continuamente nel tempo dove ci vogliono le piccolissime imprese ma ci vogliono anche i grandi giocatori del digitale che d'altronde sono anche molto interessati a parlare con i giovani e da questa connessione c'è molto molto che si può fare. Quindi noi facciamo il possibile per attrarre queste aziende molto innovative. Abbiamo come diceva lei Microsoft, abbiamo Accenture, abbiamo Huawei, abbiamo Amazon che è anche molto importante. Speriamo in futuro di ragionare con un altro paio di aziende dello stesso livello così importante in modo che si abbia un ecosistema digitale nel quale appunto c'è tutto. C'è il piccolo che crescerà e c'è il grande che aiuta il piccolo a crescere. Credo che ormai stiamo raggiungendo dei numeri che cominciano a rassicurarci che questo ecosistema non solo continua a esistere ma che si supera.